ma quello sta dando i suoi frutti la mia voce questa è la mia voce la mia voce eccola qui prova prova ciao ehi c'è nessuno ehi la mia voce non funziona più troppo comodo Alessandro dice che è troppo comodo questo posto è una buona idea la mia voce la mia voce è una buona idea è una buona idea la mia voce è una buona idea 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 ci sono pianti ci sono pianti un po' grossi dai accontentiamoci di questi pianti così grossi sono grossi pianti sono grossi e che intendi? che intendi? no 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 tu fai come pensi non penso un po' bolcro un po'겨� Qi non penso merda tiaphatica è lucendo un po' Grazie a tutti. 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 a tutti.